Ciao, eccoci qui! Oggi è il 9 giugno e, come vi avevo detto, vi faccio vedere un pochino come stanno fiorendo gli olivi. Eccoci qua, vedete? Eccoci qua, gli alberi sono tutti in fiore, sono carichissimi e speriamo di fare tantissimo olio. Vedete? Proprio carichi, carichi, carichi. Adesso speriamo che venga a bel tempo e che mantengano tutte le olive, perché se sarà così sarà un'annata eccezionale. Ecco. Allora, come d'accordo, ci vediamo al prossimo video in cui vedremo le nostre olive, come sarà l'evoluzione delle nostre olive. Ciao, ciao, a presto a tutti! Ciao, ciao! Ciao! Ciao!